Al Cifico 165 di Via dei Laghi, nel quartiere Laghetto, questa mattina qualcuno ha voluto depositare un mazzo di garofani rossi al cancello dell'abitazione di Antonio Berganze. Un ultimo omaggio al pensionato di 72 anni, ex dirigente della Camera di Commercio, che qui ieri pomeriggio ha perso la vita intrappolato dall'incendio scoppiato nella sua abitazione. Le cause della disgrazia sono ancora in corso di accertamento, forse una fuga di gas. I pompieri hanno trovato il suo corpo in soggiorno nella casa che occupava in solitudine dopo la morte della moglie, avvenuta due anni fa. Antonio era il fratello di Marino Berganze, ex vicepresidente della Banca Popolare di Vicenza. Anche lui ieri si è precipitato qui, dopo la disgrazia. Oggi qui è un via vai continuo di persone, soprattutto con cittadini del quartiere, che alla spicciolata hanno voluto rendere omaggio ad Antonio. Io ho solo fatto una peghierina e basta. A me dispiace perché io l'ho sempre visto lavorare qua nel campo. Ah, una persona semplice. Sì, sì, semplicissima. Ci fa pena, ci fa pena perché conoscete la persona, non ha fatto una bella fine, insomma. Penso in totale solitudine. E questa è la cosa più triste. Lo conosciamo perché è un nostro cittadino. Mi dispiace tanto. Non commento, mi dispiace, ma lo conoscevamo a fondo. Una brava, veramente una brava persona. La notizia si è sparsa subito anche in mondo. Sì, perché dispiace moltissimo a tutti i cittadini di Laghetto, senz'altro. Ecco, era molto assiduo della parrocchia.